Andevano così, perché io sono andato a scaldare i torinesi. Il Consiglio regionale ha avviato una collaborazione con Memoro, la banca della memoria Onlus, e lancia una campagna per raccogliere videotestimonianze raccontate da uomini e donne che vivono in Piemonte, nati prima del 1950. Si accendeva le caldaie e poi si contronavano tutto il giorno. Il principio cinque mesi, da novembre, principio di novembre al 31 di marzo. E poi ci è venuto che la gente aveva già qualche soldo in più, e allora andavamo anche fino a un anno, era il 27 di maggio. E allora gli ho detto ai padroni, abbiate pazienza, ma io vado a piantarmi le patate nel mio paese, e voi arrangiatevi adesso. E allora gli ho detto, sì, vada pure, ormai non moriamo più. Se ti è piaciuto questo racconto e voglia di raccontare il lavoro che facevi tanti anni fa, puoi telefonare allo 011 020 38 00, sia che tu abbia una videointervista o che la voglia realizzare. La tua storia diventerà patrimonio della memoria, patrimonio di tutti. Grazie. Grazie.